Il sabato pomeriggio alle due e mezzo nel piazzale della zona industriale di Bomba, nel presso di Santa Barbara, ci siamo resi disponibili a organizzare con il nostro supporto logistico e la nostra facilità di promozione un'iniziativa assieme ai medici di 118, il comando provinciale di Vigile del Fuoco, nonché il nostro servizio di protezione civile. La manifestazione provvederà a simulare il crollo strutturale di un palcoscenio durante l'esibizione e l'organizzazione di un concerto, simuleremo il ferimento di 40 individui e il soccorso da parte, prima dell'automedica, che constatata la gravità dei feriti, provvederà a fare intervenire i medici del 118, dopo il punto medio avanzato, l'intervento dei carabinieri e dei Vigile del Fuoco, cioè tutta la prassi che ordinariamente viene a sforcere, più il trasporto attraverso la nostra disponibilità presso l'ospedale della Crucia e di San Donato. Tutto questo per mettere attenzione e sensibilità e provare la messa in collaudo dell'intervento in condizioni di estrema eccezionalità, come appunto il crollo strutturale di un palcoscenio.